Archivato in fretta il deludente turno infrasettimanale, i biancorossi di Moriero giungono al posticipo della quindicesima giornata con Allegretti, Narciso, Vitello e Caridi recuperati in rosa e con una motivazione in più. Battere al Franchi il Siena guidato da Antonio Conte per ottenere i primi tre punti in trasferta ed arrestare all'accorso al secondo posto della Serie B degli storici rivali bianconeri. La squadra non ha potuto mai lavorare sempre insieme, sempre gli stessi, abbiamo dovuto cambiare modulo, giocatori, ruolo eccetera eccetera, però la squadra ha dimostrato che in campo ci sa stare, sa soffrire perché anche nelle partite difficili contro il Livorno e il Torino la squadra ha sofferto, ha sofferto tanto e ci ha messo cuore. Abbiamo recuperato grazie allo staff medico alcuni giocatori importanti, è una partita tosta però questa è una partita per giocatori che hanno gli attributi, giocatori che comunque sanno quello che vogliono. Un derby nel derby per i due tecnici di Siena e Grosseto, accomunati da una lunga e sincera amicizia e da una sana rivalità. Io e Antonio siamo come fratelli, siamo cresciuti insieme nelle giovanili, abbiamo fatto sei anni a Lecce in prima squadra, poi lui è andato alla Juve e lui è andato alla Roma. Quando si giocava lui mi copriva le spalle perché giocavamo a destra, io giocavo sull'esterno e lui mi copriva le spalle. So come la pensa, lui vuole sempre vincere, però anche io non è che voglio perdere, per cui affronteremo una squadra che cercherà la vittoria a tutti i costi, una squadra che gioca in casa. Ha dei giocatori importanti, una squadra che è nata per vincere il campionato o per stravincere il campionato. Noi stiamo superando il nostro momento difficile, andiamo lì umilmente per cercare comunque di fare mare al Siena perché comunque scenderemo anche noi per vincere, al nostro modo ma scenderemo per vincere.